Buona serata a tutti ragazzi Allora Siccome vedo comunque che Speravo insomma che con Sarri Andassimo tutti nella stessa direzione Purtroppo Non è così Purtroppo c'è chi è rimasto Pro Allegri o comunque chi Attenzione non voglio fare Riferimenti a qualcuno e quant'altro O comunque chi Va contro d'Allegri Anche adesso che Allegri non c'è più Quindi Queste fazioni del cazzo Continuano ad esistere Allora sapete benissimo Ieri la mia battuta iniziale Del video della preparazione Che ho detto Sono stato commosso Per appunto aver visto Una squadra giocare col pallone Che non riguardava solo la partitella Ma dopo 20 minuti Di riscaldamento e corsa Hanno usato il pallone Non solo nella partitella Chi si ricorda insomma I primi allenamenti Per quanto ricordava Il ritiro appunto estivo La preparazione estiva Di Allegri Siccome bisogna poi fare i paragoni Sempre con lui Si ricorderà di sicuro Che non erano così improntati Gli allenamenti Detto ciò Io non ho mai detto Ad esempio Che Infatti Ieri Ho ripetuto questa cosa qui Non è detto che Vinceremo tutto Che vinceremo qualcosa Che Bisognerà vedere E bisognerà avere Soprattutto tanta pazienza Con Sarri Però Chi ha giocato Un minimo calcio E ha fatto Le preparazioni estive Secondo me Anzi Non secondo me È una cosa oggettiva Sa benissimo Che non dico Capisce Come sarà improntata La stagione Ma quantomeno Come saranno improntati Gli allenamenti Con un allenatore O con l'altro allenatore Perché vi dico questo? Perché io ho avuto La fortuna anche Di avere Un ex giocatore di serie A Che mi ha allenato Fabio Enzo appunto E ha giocato anche Nella Roma E Ho visto insomma Come improntava lui Gli allenamenti E la maggior parte Di allenatori italiani Che ho avuto Ovviamente Tutti italiani Come improntavano Gli allenamenti In preparazione Soprattutto C'è tanta corsa E poco pallone Ok Anche il primo giorno Tanta corsa E poco pallone E lì Arrivavamo dopo Due mesi Tre mesi Di inattività Non dopo un mese Perfetto Adesso Dico un piccolo aneddoto Che poi Può essere un caso Quant'altro Però Io mi ricordo Che Facciamo questo torneo Mi sembra Sì Nei giovanissimi era Questo torneo Europeo European Tournament Scusate l'inglese di merda Che ho Però Insomma Si è fatto questo torneo Europeo A Jesolo Quattro Gironi Da cinque squadre Passava solo la prima E andavano direttamente In semifinale Era La vigilia di Pasqua E Pasqua Le finali Erano appunto Si svolgevano a Pasqua Noi non passavamo il girone Arrivavamo Secondi L'unica Partita Persa Del girone Che tra l'altro Segna i miei primi due gol Europei Tra i giorni L'unica partita persa Fu contro la squadra Che poi vinse Vince Il torneo E fatalità Adesso ripeto Può essere un caso Ma era una squadra olandese L'Olanda Era il 2004 2005 L'Olanda Che è un paese Nel quale Si fa crescere Tecnicamente I giocatori E non tatticamente E non Fisicamente Ma soprattutto Appunto Tecnicamente Ripeto Può essere un caso Poi hanno vinto Il torneo Ai vigori In finale Contro I padroni di casa Dello Iesolo Però comunque Tanto per dirvi Che Si vedeva Comunque Che Insomma Sapevano giocare a calcio Ecco Ripeto Può essere un caso Quello che volete Però io Ai casi Non ci credo Chiuso a parentesi Allora Allora Per quanto riguarda Io ho visto anche il video Di colpo gobbo Assolutamente Io ripeto Da una parte Lo capisco E capisco Chi dice Si ma non potete Esaltarvi Per un allenamento Del genere Il primo allenamento E ci sta Dall'altra Ragazzi Almeno per quanto Mi riguarda Ho vissuto Uno Barra due anni Di agonia E qualcuno mi dirà Si ma hai vinto Perché Come fai a dire Che sono stati due anni Di agonia Ma ragazzi In Italia Abbiamo vinto Perché eravamo I più forti Perché se tu Dopo un gol Ti chiudi Qui in Italia Sei già la squadra Più forte E' difficile Farti gol In Europa E' diverso Anche perché Qui in Italia Ti attaccano Difficilmente In massa In Europa E' molto diverso Abbiamo visto Anche contro L'Ajax E comunque Vabbè Mi aspettavo Qualcosa di più E soprattutto Il gioco Non mi faceva Ben sperare E nemmeno Con Ronaldo In campo Quest'anno Cioè l'anno scorso Scusate ormai Dopo la terza giornata Di Champions League Con tutti Che erano tutti Entusiasti Scusate Dissi attenti Perché poi Da marzo Da febbraio in poi C'è Un'altra competizione Ok E non è detto Che poi Giocheremo sempre così Dopo Juventus United 1-2 Infatti E' cambiato tutto Non si sa perché Comunque Non voglio Tornare su Allegri Dico solo una cosa Allegri è il passato Qui Qui ci si sta Dividendo un'altra volta Come Dopo Conte Contiani O comunque Dei trattori di Allegri O comunque Insomma Bisogna per forza Non essere Non essere Entusiasti Ragazzi Io mi ricordo Quando è arrivato Conte L'entusiasmo Era dieci volte tanto Io non dico Che dobbiamo Pensare Di aver vinto tutto Di aver vinto qualcosa No Non dobbiamo assolutamente Essere come gli interisti O come i napoletani O come Chi volete voi Però Un po' di entusiasmo Per me non fa male Cioè ragazzi Dopo che Arrivò Allegri Erano tutti depressi E lì non andava bene Adesso c'è entusiasmo Che è arrivato Sarri E non va bene comunque Sa cazzo Io penso che sia Doveroso Essere un po' Entusiasti Per il nuovo allenatore Per la voglia Di essere soprattutto Entusiasti Per il modo Che ha Di giocare Sarri Poi un'altra cosa Io sono sempre stato L'idea Che quando si attacca Un personaggio O anche una squadra Di calcio Non la si attacca Di per sé Per quello che È Ok quindi Il Napoli Perché è il Napoli L'Inter Perché è l'Inter Vabbè a parte Queste due società Però in generale O Un allenatore Come Allegri Perché è Allegri Lo si attacca Molte volte Perché c'è Gente Che ancora lo difende Che ancora lo ritiene Uno degli allenatori Migliori al mondo Ma che poi Forse questo Il problema Vabbè È un'opinione Però poi Quando loro Iniziano a sminuire Quello che dici te Perché attacchi Allegri Critici E critici E critichi Allegri Lì cade tutto Lì cade Vabbè Vabbè Tutto Io adesso Ripeto Per una volta Non riusciamo A essere uniti Veramente Non riusciamo È cambiato tutto Andiamo tutti Alla stessa direzione Con entusiasmo Sì perché Ragazzi I trofei Si vincono Con entusiasmo Non significa Attenzione Entusiasmo Non equivale A illudersi O ad aspettarsi Qualcosa di utopico O con tempi utopici Perché magari La Champions In tre anni Io l'ho detto Ieri in tre anni Punterai Alla Champions Per forza Con Sarri Ok Non è detto Che tu la vinca Già quest'anno I tempi Devono essere Ragionati Ok Ci vuole E ci vorrà Del tempo E questo L'ho detto Ieri Poi vabbè Ci sta la battutina Ovvio Dire Cazzo Come ha fatto qualcuno In qualche video Non ci credo Cosa del genere Lì mi sembra veramente Grottesco Quanto meno Perché dico Ok Va bene È arrivato Sarri Sarri Ha un altro modo di allenare Rispetto ad Allegri E questo È sotto gli occhi di tutti Perché comunque è vero Che è il primo allenamento Però ripeto Tu capisci Che Qual è E quale sarà Più che altro Il modo di allenare Di un allenatore Già dal primo allenamento Lo capisci Lo percepisci subito Ok Però appunto Non ci sta Già dal primo allenamento Dire Cazzo Wow Fantastico Ovvio Io sono contento Di aver visto Una squadra Giocare col pallone Già dopo 20 minuti Oggi ad esempio Stamattina Si sono allenate Più Sulla Non sulla resistenza Hanno fatto lavori Che servono Per il fisico Ok Per entrare In condizione È normale Bisogna mixare Giusto Ecco Ovvio Che ad esempio A me Ad Allegri E di Allegri Non andava giù Che faceva E basava La maggior parte Di allenamenti Sulla corsa Perché io ho visto E ripeto Che ha giocato Un pizzico a calcio Capisce E sa che E sa che Quel tipo di allenamento Che fanno Lo fanno tutti In Italia E Sarri Probabilmente È quello che fa Meno Quel tipo di allenamento Ok Ti fa sì Spingere Magari Non subito Però Magari a metà stagione Sì Però tecnicamente Non ti fa Fare Chissà che partite E poi Quando manca L'energia Ok Quando manca La corsa Non hai nemmeno Diciamo Il meccanismo E i meccanismi Di uscire da certe situazioni Con palla al piede Ok O con triangolazione E quant'altro Per appunto Uscire da certe situazioni E questo poi Ti fa complicare Le partite L'anno scorso La Juventus E lo dicevo A settembre Dicevo Quest'anno Dovrà essere Un campionato D'allenamento Per la Juventus In prospettiva Champions League E così non è stato I ritmi Abbiamo tenuto I ritmi italiani E in Europa Abbiamo tenuto I ritmi italiani Però in Europa Ti bastonano E ti massacrano E così è stato Ok Niente Questo è il quanto Era anche un po' Per rispondere A Colpo Gobbo Che poi Anche lui Ha le sue opinioni Per carità E non ho condiviso Tanto il suo video Nel senso che Io apprezzo Ci sia entusiasmo Per il nuovo Renatore Sarri E per anche Il primo allenamento Che ha fatto Ripeto L'entusiasmo È benzina Non questa è benzina Adesso mi do fuoco Nel senso che è benzina Per Per iniziare E per avere Dei buoni Insomma Avere soprattutto fiducia Ecco Tutto lì E quindi Per me va bene così Per me va bene così Ovviamente ripeto L'entusiasmo Non deve poi sfociare In Deliri Ecco E in Illusioni Ma deve rimanere Entusiasmo Entusiasmo Che deve essere coltivato E anch'esso Deve coltivare Poi Le prestazioni Perché poi L'entusiasmo Che abbiamo noi tifosi Probabilmente Lo Percepiscono E poi magari Lo avranno anche I giocatori in campo Con un nuovo Modo di giocare È questo È questa la mia speranza Più che altro Ecco tutto lì Ragazzi Questo è quanto Spero che Da qua a qualche giorno A qualche settimana Tutti noi Iniziamo Si A A rimare Dalla stessa parte Perché se no Se già Al primo giorno D'allenamento Di Sarri Appena è arrivato Sarri E quant'altro Iniziano già Schieramenti Pro Contro Non tanto Contro personaggi O pro O pro Personaggi Ma Pro Contro Tra di noi È finita È finita È finita Ok Da una parte Do ragione A Antonello Che dice Ragazzi Bisogna stare Cioè Al primo allenamento Va bene Però dall'altra Mi sento anche di dire Che l'entusiasmo È giusto che ci sia Perché se no Se partiamo Depressi Un'altra volta È inutile Nemmeno iniziare La stagione Ecco tutto lì Questo è quanto Ragazzi Fatemi sapere la vostra Ci vediamo Nel prossimo video E sempre Comunque Fino alla fine Forza di Juventus Grazie a tutti